Eccolo, si parte, partiamo con la TV, la critica televisiva, il nostro Marco Vittiglio, buongiorno Marco! Ciao Francesco, buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno! Benvenuto, da dove partiamo oggi Marco? Partiamo da due saluti Francesco innanzitutto, una la mia dolce moglie che ieri sono due anni che è volata in cielo e la saluto e l'altra l'ascoltatore ci chiedeva di Massimo Marino, non sapeva se io fossi a conoscenza della ripartita dei grandi Massimo, esattamente tre anni fa, il 19 aprile, è volato in cielo e mi sono sentito con la signora Miglia che saluto e ci sarà un evento il 1 maggio, ma avremo poi modo anche di rinnovare l'invito, completamente gratuita, una mostra dedicata ai migliori momenti di Massimo Marino, il 1 maggio dalle 18 alle 24 alla Galleria Mondrian Suite in via dei Piceni 43 a San Lorenzo, poi veramente lo ripeteremo, ma sarà veramente un bel giorno dedicato a Massimo Marino, il 1 maggio, poi ripeteremo ovviamente nelle puntate successive… Poi magari farà la pena anche ascoltare qualcosa di lui.